Uscire dalla schiavitù del crack per ricominciare a vivere. Per sfuggire dalla droga, 14 ragazzi hanno trovato rifugio a 50 km da Rio. Un centro su un terreno più vicino non aveva funzionato, troppa la pressione degli spacciatori. Ad accoglierli invece è ora la casa menore di Sao Raffaele. È nata solo ad aprile, ma nonostante i fondi, certi, sino al 2014, non si ferma un istante per aiutare i minori ad uscire dalla tossicodipendenza. La prima cosa, avere attenzione alla storia di ognuno, essere presenti nella loro vita per poter capire la loro storia e poi ricominciare a riconoscurire tutto quello che hanno perso nel loro passato. In un paese che secondo l'ONU, il primo consumatore di crack al mondo, non ci si dovrebbe sorprendere. Eppure, vedere ragazzi di neanche 14 anni sempre in bilico tra violenze e droghe è un presente che qui, Carlos, col suo gruppo vuole combattere. Con fede e amore, Luis Antonio, 24 anni, la maggior parte della sua vita l'ha vissuta in una casa menore. Ora è un educatore, chi l'ha aiutato c'è riuscito scoprendo in lui la chiave della musica. Felipe ha superato i suoi problemi con la droga, si è ruolato come volontario per la GMG, ma ora che i suoi genitori stanno per lasciarsi, ha paura di ricascarci e così ha preferito fermarsi qui. Sono stati presi a pugni dalla vita, hanno sbagliato e cercano di ricominciare. La loro esistenza è un braccio di ferro continuo, per uscire dal crack, per combattere contro chi li ha dimenticati, per non cedere, ma qui non si sentono soli. Ero convolto nel crimine, nella droga. Sono stato in una casa di recupero, ma sono scappato. Poi alla fine sono venuto qui, sto cercando di cambiare vita, vivendo e imparando. Voglio farvi vedere gli altri che mi dicevano che non potevo cambiare, che io voglio fare la differenza. Non è vero tutto quello che dice la società, che non serve a niente. Devo riuscire a cambiare vita, a guardare avanti con la testa alta, a superare ogni ostacolo avendo fede in Dio.